Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Immaginate, si sta mettendo appunto un video per incitare gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti in situazione di disagio esistenziale, a ricercare la felicità nella loro vita. Ditemi, chi mai potrebbe pensare a Giacomo Leopardi come testimonial? Ebbene, ci ha pensato Alessandro D'Avenia che con l'arte di essere fragili come Leopardi può salvarti la vita, ci invita ad abbandonare tutti i cliché, buio, triste, sfiduciato, depresso, pessimista cosmico, per partire alla riscoperta del più grande poeta dell'ottocento italiano e sicuramente uno tra i più grandi di tutti i tempi, diciamolo. Non il depresso, timido, introverso Giacomo, ma un ragazzo innamorato della vita, invaso dalle passioni, dalla ricerca dell'amore, della bellezza, dell'infinito dietro l'ermocolle. In questo libro D'Avenia immagina di dialogare con Giacomo attraverso il classico epistolario di Una Volta. In queste lettere lo scrittore racconta al poeta le sue esperienze di insegnante ma anche di scrittore che ogni giorno riceve tantissime lettere da adolescenti in difficoltà, in situazione di disagio esistenziale, con tutto quello che il male di vivere può causare in una giovanissima vita, disturbi dell'alimentazione, autoresionismo, isolamento sociale, suicidio nei casi più gravi. Dice lo stesso Giacomo Leopardi nello Zibaldone. Sebbene spento nel mondo il grande e il bello e il vivo non è spenta in noi l'inclinazione. Se è tolto l'ottenere non è tolto né possibile a togliere il desiderare. Non è spento nei giovani l'ardore che riporta a procacciarsi una vita e a sdegnare la nullità e la malinconia. Commenta D'Avenia. Io vedo oggi con molta chiarezza questa energia che si disperde nel nulla. Incontro centinaia di ragazzi e centinaia sono quelli che mi scrivono stufi di non sapere per cosa giocarsi quell'infinito che sentono nel cuore. Vogliono progetti non oggetti. Ecco il vero obiettivo del libro espresso già nel sottotitolo come Leopardi può salvarti la vita. Noi lo esprimiamo qui sotto forma di domanda. Leopardi può salvarti la vita? Per dirla con gusto il fuoco che il grande poeta italiano ha generato non si è mai spento, non è morto con lui. Continua ad ardere. Noi lettori del ventunesimo secolo possiamo continuare ad approfittarne. L'adolescenza è la tappa dell'informe che cerca la forma, del caos che cerca l'ordine, della speranza che cerca l'esperienza e dell'impossibile che cerca il possibile. Proprio tu, Giacomo, consapevole di questa tappa come altri mai, attraverso i personaggi dei tuoi canti hai dato forma di domande all'informe, sperare e temere, non offrendo risposte ma vivendo le domande senza spegnerle. Sono quelle di Saffo, del pastore errante, di Nerina, di Silvia, del pastore solitario e del viandante confuso. Le parole della tua poesia sono strumenti che aiutano ad affrontare la vita di tutti i giorni, ad abitarne luci ed ombre, proprio perché riescono a dare voce al grido del cuore. Silenzioso. Un Leopardi nuovo, inedito, che Alessandro d'Avenia amerebbe fosse inserito in una scuola altrettanto nuova e inedita. Sogno una scuola, Giacomo, che si occupi della felicità degli individui e non intendo un luogo di ricreazione e di complicità tra docenti e alunni, ma uno spazio in cui ognuno trovi il dono che ha da fare al mondo e cominci a lottare per realizzarlo, in cui ciascuno trovi un'ispirazione che abbia la forza di una passione profonda, che gli dia energia per nutrirsi di ogni ostacolo. Bene, allora buona lettura, alla prossima settimana e mi raccomando, come sempre, veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie. 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 Grazie.